Si parte martedì alle ore 17 da Viale San Lorenzo dove ci sarà il raduno di tutti i carri provenienti ovviamente dalla maggior parte della Pollosa e poi si proseguirà per Corso Dante, davanti al Duomo ci sarà una sosta, poi si imboccherà il Corso Garibaldi per raggiungere fino al Rocca dei Rettori, giro per via 24 maggio, ritorno e poi Corso Garibaldi per finire davanti al Duomo, questo è il giro diciamo dei carri. Da aggiungere chiaramente anche i nostri tre carri, anzi due carri più dei figuranti insomma, quindi voglio dire un carnevale che si presenta abbastanza nutrito e bene. Sì, penso proprio di sì, come ogni anno, tu sai benissimo che è una tradizione che vabbè si porta da tantissimi anni, in particolar modo con te e con i tifusetti, però voglio dire è richiesto dalle persone, dalle gente. Siamo sempre in prima linea. Siamo in prima linea, noi siamo esperti anche nelle affrontare i vari problemi perché sono manifestazioni che hanno grosse problematiche e oggi ancora di più. La sicurezza soprattutto. La sicurezza, però ecco è una bella manifestazione che è aspettata e anzi io volevo aggiungere che quest'anno c'è stato questo avvicinamento anche dei commercianti del Corso che io vorrei ringraziare perché questo è un buon segnale anche per gli anni prossimi perché si sono avvicinati a noi per questo evento ma anche con altri eventi. Poi c'è la tua diretta quindi lo sappiamo benissimo che ci sarai sempre. C'è stata sempre questa nostra stretta collaborazione per voi. Una manifestazione per bambini ma anche per adulti. Soprattutto per gli adulti.